Nasce il Comitato per l'autonomia del Piemonte, intanto l'attualità ci impone di fare una distinzione, non parliamo di indipendenza. Assolutamente no, perché questo Comitato si prefigge di ottenere un risultato che è garantito dalla nostra Costituzione. Con l'approvazione del titolo V è modificata la parte riguardante le autonomie e all'articolo 116 della nostra Costituzione è previsto che le regioni possano contrattare con lo Stato maggiori concessioni in tema di autonomia, quindi chiedere più competenze legislative e di conseguenza anche le risorse fiscali per attuarle. È un sistema di regionalismo differenziato e quindi quello che noi vogliamo fare in Piemonte è seguire lo stesso percorso che hanno già avviato Lombardia e Veneto e chiedere una consultazione popolare per avere peso politico per poter contrattare con Roma la concessione di questa autonomia, visto e considerato che in questi 16 anni di attuazione del titolo V nessuna regione italiana è riuscita con lo Stato centrale ad ottenere queste condizioni. Quindi serve un referendum perché è necessaria una spinta popolare per legittimare i governi regionali, in questo caso il governo regionale del Piemonte a chiedere maggiore autonomia. L'autonomia che cosa comporterebbe per i piemontesi? Sicuramente il dato più importante è che i piemontesi devono sapere che la nostra regione ha un residuo fiscale attivo di 10 miliardi di euro all'anno. Questo vuol dire che ogni anno i cittadini piemontesi regalano allo Stato centrale 10 miliardi di euro delle loro tasse, dei frutti del loro lavoro che vengono spese nella finanza generale anche in territori dove l'efficienza è sicuramente minore e dove c'è un gettito fiscale più basso. Quindi la prima conseguenza sarebbe trattenere gran parte di questi fondi sul nostro territorio. Tanto per dare un esempio, il bilancio della regione Piemonte cuba proprio 10 miliardi. Quindi voi immaginate se avessimo una parte di quei 10 miliardi aggiuntivi sul nostro bilancio potremmo ad esempio sviluppare una politica sanitaria diversa che salvi i presidi ospedalieri di montagna perché per esempio una delle competenze che si possono chiedere allo Stato centrale è quella delle politiche sanitarie. Quindi non dovremmo più dipendere da Roma su queste scelte ma avremo una nostra autonomia nelle decisioni o lo stesso dicasi per la pianificazione del territorio, per le politiche ambientali, per le politiche sul lavoro che è un altro tema molto importante. Quindi conseguenze che inciderebbero direttamente sulla vita di tutti i piemontesi. Rimarrebbe l'aspetto solidale con le regioni più povere? Assolutamente sì perché la Costituzione prevede comunque un fondo preequativo è garantito dall'articolo 119 della Costituzione, è quello che parla appunto del federalismo fiscale e quindi l'autonomia, la responsabilizzazione delle regioni non contrasta con l'unità nazionale ma anzi la rafforza perché porta a responsabilizzare tutte le amministrazioni e a efficientare tutte le amministrazioni.